Amici dei Libasca, siamo qui con Cisito Tome dopo la vittoria larga dell'Italia. Gigi, si è visto grande agonismo fin da subito? Quello sicuro, sono amichevoli solo perché si chiamano così. Dobbiamo sfruttarle per crescere al meglio, abbiamo poco tempo e ogni giorno è un'occasione per crescere insieme e l'atteggiamento di oggi era quello giusto. Che sensazioni hai avuto? Stando in campo, visto che c'è già affiatamento, la condizione fisica, quanto ha pesato? No, no, stiamo bene, poi eravamo in tanti, quindi nessuno ha giocato tantissimo. L'importante è avere questa mentalità, questa voglia di passarsi a palla, questa voglia di stare nel sistema e di aiutarsi dietro in difesa. Grazie Gigi.